ben tornate a mai dire dieta questa cucina un po' particolare un po' diversa una cucina dove si va a scoprire non soltanto le ricette gustose ma ricette che ci permettono di mangiare in modo consapevole ok perché io non solo voglio farvi vedere le ricette che ti possono aiutare a diciamo a pagare il palato a mangiare in modo più gustoso ma vorrei aiutarvi a capire che cosa state mangiando e perché lo stiamo mangiando per fare questo viaggio c'è un amico in studio che si chiama Caudenzio Calabrese ciao Caudenzio ciao Gille ciao a tutti allora Caudenzio andiamo a parlare di questo fatto della consapevolezza quando noi affrontiamo il frigorifero secondo te molte persone quando guardano il frigorifero guardano tipo il nemico numero uno dell'essere umano o vedono un'opportunità un'opportunità di nutrirsi onestamente onestamente vedono il nemico della forma perché il frigorifero è quello che nasconde tutto quello che magari nella nostra immaginazione è appesantimento magari troppo gusto troppo sapore è quello che magari ci fa mettere su qualche chilo vogliamo dire anche tentazioni sì certo le ragazze il frigorifero non ti mangia se tu che mangi il cibo però è scientificamente provato che le persone hanno problemi con il cibo perché il cibo è nostro fonte energetico per eccellenza cioè è nostra benzina allora se noi cominciamo che ne dici ad affrontare questo discorso anziché vederlo come tentazione o qualcosa che ci tenta ci costringe di mangiare la roba pesante cominciamo a vederlo come benzina tu quando tu vai a mettere benzina nella macchina preferisci di avere qualcosa che ti entase la macchina o che ti fa rombare il motore assolutamente che fa rombare il motore quindi deve essere un carburante che dà una spinta energetica a tutta la macchina non deve essere un carburante che vada appesantire la macchina che quindi farà più fatica camminare esatto esatto e noi siamo qui per questo non so se voi state vedendo ma qui in questa cucina di my daily diet io con gaudenzio stiamo veramente spaziando da primi a secondi ai dolci però c'è un settore che a me fa letteralmente impazzire lo mangio quasi tutti i giorni sono i frullati lo sai cioè tu mi conosci da tanti anni anche mi hai visto anche a rimini con mio mio bibitone giro con mio bibitone sono contenta allora vi spiego perché mi piacciono poi chiedo anche a gaudenzio perché piaccia a lui allora quando vedo questo chiedo una giro se mi inquadrate questa ben del signore perché ben del signore frutta verdura io personalmente vedo vita vedo proprio le cose che mi inspirano vitalità i mirtili lamponi lo zenzero io uso le zenzero dappertutto l'ananas l'ananas e anche il sedano essendo tante di quelle proprietà organoletiche che quando le frulliamo insieme uno diventa più facile proprio di godere il sapore ok ma anche per i bambini secondo me quando facciamo il frullato più facile anche nutrire i nostri bambini ma secondo te per te che che rappresenta il tuo rapporto con il nutrimento allora da sportivo come ovviamente noi siamo abituati a conoscerci il nutrimento è proprio alla base della nostra macchina quindi va sicuramente assecondato il bisogno che la nostra macchina ha del nutrimento e non va sicuramente assecondato invece il bisogno che ha il nostro cervello della dell'alimento perché se assecondiamo il bisogno del nostro cervello ecco che andiamo sugli zuccheri sui carboidrati un po pesanti sulle cose che ci riempiono ma non vanno a riempire soltanto il nostro stomaco ma vanno ad intasare tutto quello che è la macchina gli ingranaggi invece in questo caso come giustamente tu sei abituata e io ti conosco da anni e quindi lo so vai a utilizzare un frullato dove riesci a introdurre diversi diversissimi alimenti tra di loro e come dicevi prima proprio nel caso dei bambini che sicuramente facciamo fatica a fargli mangiare un gambo di sedano perché è difficile scappano a gambe levate e invece se noi lo frulliamo con delle altre diciamo frutte o verdure che sono molto diciamo un po più dolciastre un po più di gusto poi lo zenzero mi piace tantissimo per l'apparato digerente per esempio ma prima di proseguire ti voglio parlare di questo frullato frullato un frullato drenante è un frullato amico delle vene perché le vene che funzionano bene aiutano a drenare al meglio così avremo in questa frullato i seguenti ingredienti ci troveremo lo zenzero i mirtilli i lamponi l'ananas con il torsolo e il sedano e poi finiamo tutto con un latte vegetale allora la cosa bella di questo frullatore e poi la metto tutto dentro e di una velocità mi piace proprio questo fatto che non devo ovviamente sciacquo tutto ma molto semplice di riempire il bicchiere con frutte e verdure di stagione e poi lo frullò che è una utilità immensa per portarlo anche in giro in realtà perché io ti conosco come dicevamo prima e sei abituato a portartelo in giro avendo tantissimi impegni durante la giornata e quindi un frullato ripieno pieno di energia e di proprietà nutritive è quello di cui sicuramente hai bisogno gillo una domanda ti faccio lo zenzero che magari potrebbe avere questo retrogusto un pochino piccantino invece mischiato nel nostro frullato con l'ananas si sente di più si sente di meno è più mitigato e quindi le persone che ci seguono possono gustarlo la devi provare onestamente un po la devi fare a me piace il gusto piccante perché sono americana non siamo abituati a usare tante peperoncino cibo messicano però magari usate un po di meno del nostro zenzero perché comunque la puoi dosare perché noi qui parliamo sempre di cubi quanto basta e usate voi il vostro gusto il vostro personale accorgimenti per migliorare o cambiare le nostre ricette ma prima di proseguire andiamo a scoprire ok le nostre star di questa ricetta zenzero funzione digestiva regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione del gas antinausea regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare normale circolazione del sangue funzionalità articolare contrasto di stati di tensione localizzati contrasto dei disturbi del ciclo mestruale per quanto riguarda il benessere di stomaco l'intestino sia potizia che lo zenzero abbia un effetto digestivo in quanto sembra stimolare la secrezione di saliva e dei succhi gastrici e biliari possa essere utile in caso di gastrite favorisca la digestione sia è in grado di contrastare la formazione di gas intestinali in quanto sembra sfavorire l'accumulo di tossine e la fermentazione causata dai batteri sedano funzionalità articolare drenaggio dei liquidi corporee funzionalità delle vie urinarie regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas azioni tonica e di sostegno metabolico funzioni digestive le fibre di cui il sedano è ricco aiutano a ridurre trigliceriti e colesterolo la sedanina una sostanza aromatica stimolante e altre molecole come il fenolo manite e inositolo le potenziano le capacità digestive di assorbimento dei gas nel apparato digerente consumato crudo fresco o in succo anche sotto forma di centrifugato contrasta la attenzione idrica grazie al suo alto potere diuretico questa sua capacità disintossicante unita al ricco quantitativo di vitamina a e fanno un prezioso alleato contro le infiammazioni prima fra tutto l'acne i bruciori urinari e l'infezione agli occhi e non ultimo aiuta anche l'amore stimolando l'attività delle ghiandole surinali e sessuali grazie alla presenza degli ormoni steroidi delta avete visto quanto benessere c'è dentro questo mega frullato e andiamo ormai siamo arrivati andiamo a frullare la nostra frutta il nostro frullato drenante e basta siamo pronti di versarlo goderlo gustarlo e ricordo sempre ai nostri amici a casa che questo è anche un eccellente modo per far godere le frutte verdure ai vostri bambini perché è importante che anche loro mangiano in modo salutare ci siamo guardate qua allora il nostro frullato drenante che protegge la vene ci fa sentire più leggeri e secondo me ci fa sentire anche più saggi più intelligenti perché abbiamo mangiato bene certo ragazzi noi siamo insieme con gaudenzio calavresi sempre qui su mai dire dieta per godere la tavola scoprire la tavola scoprire i nutrimenti insieme su mai dire dieta la cucina che è dedicato all'istruzione per mangiare bene e dire ciao dieta facciamo ciao una dieta ciao 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 alla prossima